Tanti auguri a te, tanti auguri a Francesco Questo cos'è? Lo zucchero. Ecco la signorina. Per chi lo stai facendo il caffè? Per te. Ah grazie, sei molto gentile. Uno, basta, 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 basta. Perché sono dei ricordi, così quando sarai vecchietta ti ricorderai questo evento. Appropriate. Basta, 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 basta. Grazie. Servito e riverito. E' pronto? Posso assaggiarlo allora? Vuole dire qualcos'altro? In chiusura? Ciao. Ciao, saluta. Ciao. Ciao, ciao Giovanna. Ciao.